Ex fungaglia di Gricignano nel comune di Sansepolcro trasformata in discarica. Per questo la forestale, coordinata dal pull ambientale della Procura della Repubblica di Arezzo, ha sequestrato l'intera area di circa 6 ettari. I sigilli sono stati apposti giovedì mattina a seguito di accertamenti svolti nelle settimane precedenti dal Corpo Forestale dello Stato e dal Dipartimento Arpata della Toscana. Nell'aria è stata scoperta una discarica a cielo aperto di rifiuti tossici e pericolosi, coperture in ethernet o fibro cemento dei capannoni in gran parte danneggiate e dalle quali è stato rilasciato nell'aria e nel suolo un ingente quantitativo di fibre aerodispersibili. Quanto agli altri rifiuti è stata accertata la presenza di migliaia di metri cubi di substrati organici, cartoni, plastiche, legno, polistirolo, materiali isolanti, carta catramata, bidoni di olio combustibile e altro materiale di varia natura. Tutti gli edifici del complesso si presentano in condizioni fatiscenti e liberamente accessibili nonostante l'aria sia stata classificata come pericolosa anche dalle autorità tecniche. Le indagini coordinate dal PM Angela Masiello proseguiranno per accertare la responsabilità in ordine a reati di gestione illecita di rifiuti e di scarica abusiva e per monitorare le fasi di messa in sicurezza e bonifica del sito.